I carabinieri di Trapani insieme ai colleghi di Alcamo hanno dato esecuzione al decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Trapani nei confronti di un 67enne di Castellammare del Golfo, già tratto in arresto nell'ambito dell'operazione Cutrara del 2020 e in atto agli arresti domiciliari. Sottoposti a sequestro ai fini della confisca tre abitazioni, un compendio aziendale, un negozio, un terreno con annessi fabbricati, nonché un conto corrente, il tutto per un valore di circa un milione e mezzo di euro.